Chi sei? E chi sono? Nato a Tripoli, romano d'adozione per libera scelta, ingendori napoletani, quattro anni di collegi, un padre morto a 18 anni, quando io ne avevo 18 naturalmente lui ne aveva 38 solamente, ritengo un bastardo venuto dal sud come dico appunto in un mio vecchio complesso, cliniche, collegi, carceri, abbastanza fame, sembra retorica dire la mia infanzia è stata così, ma in realtà la mia infanzia è stata veramente così, ho dormito nelle macchine per un anno, ho mangiato dei panini per un paio d'anni, quando ho lasciato casa a 18 anni, quando ho detto il mio primo no, il mio primo rifiuto in un posto parastatale che mi spettava di diritto proprio perché mio padre era morto a causa della guerra e quindi pluridecorato, e ho cominciato la mia vita da randaggio, ho fatto dei fotoromanzi sfruttando un po' un decente aspetto fisico che avevo allora, più ancora di adesso, e la mia vita è stata una vita di corsa, ho corso sempre.